Borgo di Vino a Tempio Pausani a questo fine settimana sarà un momento speciale per poter scoprire la bellezza del nostro centro storico che è entrato a far parte dei borghi più belli d'Italia e anche degustare un ottimo bicchiere di vino in compagnia dei propri amici e visitare il centro storico e anche quelle che sono le bellezze naturalistiche dell'Imbara e la zona archeologica degli Uraghe Maiori. Il prossimo fine settimana 19 e 20 ottobre Tempio Pausani ospiterà per la prima volta Borgo di Vino in Tour, un evento enogastronomico che celebrerà le eccellenze vinicole italiane. Durante il weekend i visitatori potranno degustare una vasta selezione di vini provenienti da diverse regioni d'Italia tra cui Piemonte, Sicilia, Puglia e la stessa Sardegna nel successivo centro storico della città. Oltre ai vini ci saranno specialità gastronomiche locali come la zuppa galurese e il fritto misto di pesce. I partecipanti potranno acquistare un voucher da 18 euro che include 8 assaggi e un kit di degustazione. Negli anni scorsi la Sardegna era rimasta esclusa a ragioni logistiche da questo grande evento ma siamo felici che quest'anno anche la Sardegna possa ospitarlo. E possa ospitarlo in maniera particolare Tempio Pausania che è l'ultimo dei borghi entrati nel circuito dei borghi più belli d'Italia ma è anche territorio dell'unica DOCG che abbiamo in Sardegna che è quella del Vermentino. E ovviamente questa opportunità noi l'abbiamo accorta, questa possibilità nel momento in cui ci è stata proposta. Consapevoli che si tratta di una manifestazione sfidante, importante, di notevole impatto e di forte richiamo dal punto di vista turistico. Non potevamo mancare in un contesto di questo tipo forti anche delle esperienze precedenti che abbiamo maturato all'interno dell'Associazione Borghi più belli d'Italia.